Buongiorno 8 marzo, questa è la rassegna stampa di Fano TV sul canale 17. Ben ritrovati cari telespettatori, siamo qui per leggere i quotidiani, il Corriere Adriatico, il resto del Carlino, le edizioni di Pesaro, giornali che troverete come sempre nel vostro edicolante di fiducia. Cominciamo dal santo del giorno però con il santo di oggi, lo vediamo subito con la grafica, oggi è San Giovanni di Dio, il sole è sorto alle 6.32, tramonterà alle 18.06. Dopo la giornata di maltempo caratterizzata di ieri, abbiamo una giornata oggi di sole, appena qualche pioggia soltanto residua nel sud della regione Marche, per oggi dicevo avremo un cielo sereno poco nuvoloso con brevi isolati piovaschi durante la notte che è appena trascorsa e al primo mattino solo a sud della regione, i fenomeni comunque saranno assenti per il resto della giornata, le temperature minime sono stazionari e quelle massime in lieve aumento. Per domani ancora vedete cielo sereno su tutta la regione Marche con temperature massime in aumento, le minime in diminuzione invece, mentre per venerdì 10 marzo, venerdì avremo ancora cielo sereno poco nuvoloso, alcune nuvole velate transiteranno durante la giornata, però soprattutto sommato sarà una bella giornata di sole. Poi ci sarà la rimonta di questa alta pressione, quindi generale miglioramento per i prossimi giorni. Cominciamo allora adesso con i giornali, andiamo sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico, la città avrà 90 posti di RSA, non solamente dunque la nuova piscina, l'assessore Barnesi replica i 5 Stelle, la Don Tonucci verrà gestita dal Comune. Il servizio assistenziale della struttura del fondo Cives sarà in carico alla sanità pubblica. Poi la notizia, un gesto generoso che avviene e che trova sempre spazio sui mezzi di informazione quando purtroppo qualcuno se ne va e decide di fare un ultimo gesto, quella della donazione degli organi. C'è stato un nuovo multiespianto di organi alla Santa Croce di Fano, i familiari di una signora che è deceduta in rianimazione, hanno autorizzato la donazione. Aumenta il rischio sul lavoro, le donne sono più esposte, la statistica INAIL indica il trend in crescita, l'Associazione Nazionale Landmill chiediamo, dicono, più sicurezza. Qui c'è il quadro con il lavoro femminile a rischio, i casi femminili di infortuni e malattie sono un terzo del totale in nero, il 40% di colf e badanti. Questa è la pagina di Fano del Corriere Adriatico di questa mattina, nel giorno in cui si festeggia la donna. Il dragaggio delle darsene non prima invece di due anni, i timori del Movimento 5 Stelle per le informazioni regionali, Fano può stoccare solo altri 21 mila metri cubi di fanghe. I due terzi della chiapienza nella cassa di colmata di Ancona occupati dai fanghi già estratti. Incendia la profiglas invece un plauso al sindaco, il comitato tutte le salute e ambiente apprezza la richiesta dei dati tecnici avanzati all'azienda. Sulla pagina della Valle del Cesano, commissione ed emergenza, scontro politico sull'ospedale, la maggioranza boccia la richiesta di Pergola Unita per un organismo dedicato. E poi notte romantica ignorata, la giunta pensa a Marotta, l'attacco del comitato mondolfese, dimenticato uno dei borghi più belli dell'Italia. d'Italia. Poi da Senigallia invece cartelli antibivacchi in corsia, non offrite aiuti ai clochard, il cartello apparso con la carta intestata dell'Asur, linea dura dell'ospedale che chiede la collaborazione di personale ed utenti. Vedete in questa fotografia c'è un signore con clochard, un senza tetto che dorme probabilmente appunto nei corridoi dell'ospedale di Senigallia. La pagina principale del Corriere Adriatico, eccolo qua, Pesaro piange, Pesaro e Roff, piangono l'inesauribile Maestro Zedda, stimolò il rinascimento rossignano e morto a Pesaro aveva 89 anni. Mentre la fotografia è per la burocrazia che è peggio del terremoto, Maxi protesta degli allevatori, con pecore e bandiere davanti a Montecitorio a Roma, in 300 dalle Marche sono partiti per questo sit-in di protesta. E sul sagrato della chiesa, siamo a Pesaro, l'obolo non sarà vietato, guerra all'attaccattonaggio, rimosso il vincolo invece per i luoghi sacri. Dunque qui vedete l'ingresso del sagrato, quindi l'ingresso del Duomo di Pesaro, dove solitamente a qualsiasi ora del giorno o della notte, in particolare vicino alle funzioni religiose, ci sono sempre persone che chiedono appunto l'elemosina, ebbene sul sagrato della chiesa l'obolo dunque non sarà più vietato, della chiesa in generale, delle chiese pesaresi non sarà più vietato, come invece era stato previsto inizialmente. Sosta blu, a pranzo niente sconti, il comune di Pesaro in pochi protestano, dicono bocciata la proposta di Siamo Pesaro per i ticket gratuiti e i buoni parcheggio sono un flop. Tempi di attesa a Marche Nord, si può arrivare fino a 237 giorni, pensate visite mediche programmate in base ad un ordine che prevede quattro priorità. La mammografia è l'esame che può arrivare anche a otto mesi e poi sull'articolo di questa mattina qui sul Corriere Adriatico c'è, ci sono tutta una serie di dati, di dati aggiornati sulle attese appunto per fare una visita. Mio marito mi picchia, siamo alla cronaca da Pesaro e provincia, mio marito mi picchia diceva ho bisogno di salvarmi allo sportello di sostegno la denuncia di una quarantenne disperata, ma c'è anche l'uomo che chiede aiuto, la mia ex mi perseguita, non so più che fare. E questo è il Corriere Adriatico. Andiamo adesso invece sulla pagina di Fano del resto del Carlino. In apertura la crisi in cui versano le società sportive che oggi hanno purtroppo ancora sempre meno contributi, il Comune di Fano lo sapete ha deciso di tagliare per questione di bilancio i soldi da dare appunto alle società sportive fanesi, i contributi dunque sono più poveri per questo 2017 e con la crisi gli sponsor sono in fuga. Nuovi tagli dell'amministrazione, chiesto un incontro urgente per esempio al centro Fanella, siamo sempre a Fano, solo per il custode, dicono quelli dell'associazione, se ne vanno 7 mila euro all'anno e c'è un riquadro con quelli che sono i contributi probabilmente dati dalla situazione delle varie palestre, dei vari campi sportivi, tutti gli impianti che ci sono nella città di Fano con i più e i meno, però a quanto pare qui ce ne sono tanti di meno, vedete tanti segni negativi. E c'è la pagina, questa è la prima pagina del resto del carino di Fano. Poi la notizia è che c'è una bomba, c'è una bomba all'istituto Volta, 300 studenti evacuati, carabinieri, polizia sul posto, però nessun ordigno rilevato, non è il momento di creare certi allarmismi, pensiamo sia uno scherzo furiluogo, ha detto la preside Gennari, la telefonata è giunta alle 12.30, la Bidella ha parlato di una voce giovane dall'altra parte del telefono, probabilmente si è trattato di uno scherzo, uno scherzo chiaramente di cattivo gusto e che adesso il responsabile, nel momento in cui verrà individuato e non sarà difficile, dovrà rispondere e pagherà cara. Nudo in giardino invece la vicina lo denuncia, è successo il 7 luglio del 2015 a Fano, l'uomo nudo, è un 66enne lombardo, insegnante di scuola elementare, organista della sua parrocchia, è finito sotto processo a Pesaro ed è accusato di atti osceni. Lui invece dice guarda soffro di dermatite, il medico mi ha consigliato di curarmi sotto il sole, per lui questa era solo una terapia e quando gli agenti di pulizia si sono presentati a casa del nudista sono stati accolti dalla moglie che però anche lei era praticamente nuda, quindi quando ha aperto era nuda. Allora Colli al Metauro invece, la grillina che sfida Aguzzi, Sonia Melfi, rompe gli indugi, se il movimento mi dà l'ok dice io ci sto, lo vedete in questa fotografia con una bambina, probabilmente è sua figlia, mamma di due bambini, durante il raduno dei pentastellati al Circo Massimo a Roma, 46 anni, ci auguriamo, dice che il Tar bocci la fusione, ma se non accadrà scenderemo in campo e vedremo adesso se Beppe Grillo darà il nulla a osta e darà l'ok per questa discesa in campo. Poi c'è la storia di Alice De Gradi, la vedete in questa bella fotografia, lei molto sorridente, schiacciatrice della My Cicero Volley Pesero, stiamo parlando di una campionessa di pallavolo, ma parla della sua malattia che è una malattia di diabete, lo schiaccio dice lei, il volley è la mia cura, ragazzi giocate anche voi, avevo 13 anni e sono improvvisamente dimagrita di 20 chili, nonostante mangiassi continuamente, poi è arrivato il verdetto inequivocabile. E adesso l'ultima pagina della nostra rassegna stampa, ancora cronaca, un camionista che è stato trovato morto nell'area di servizio di Foglia Est sull'A14, la Corsia Nord, un 55enne siciliano, era nel suo tir da due giorni, era morto da due giorni e lo hanno trovato privo di vita appunto nell'area di sosta dell'A14. Poi invece qua c'è l'aula del GIP, vedete la fotografia, si è lanciato con la bicicletta contro di me, la moglie lo accusa, marito finisce in carcere, querele reciproche in una coppia dopo l'ultimo episodio, però sono scattate le manette. Il legale del 47enne, provvedimento, parla di un provvedimento sconcertante, risponderemo alla GIP, il mio assistito pensava solo ai figli, ed è questa la storia di un 47enne slavo residente a Pesaro da molti anni. E questa era l'ultima pagina della nostra rassegna stampa, o che il giornale torna domani mattina, come sempre alle 7.30, salutiamo anche quelli che ci seguono in replica, replica fino alle 13.30, noi ci vediamo invece stasera per il telegiornale e questo è il numero al quale potete chiamarci, scrivere oppure mandarci foto e video attraverso WhatsApp per le vostre segnalazioni. Vi auguro una buona giornata, arrivederci.